Salve a tutti Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di Mite e Misteri SCP Oggi andremo a parlare dell'SCP 173 Conosciuto con tanti nomi, cioè con diversi nomi Allora qui è conosciuto con il nome della scultura, l'originale Ma è conosciuto anche come la statua o altri nomi comunque che non mi vengono proprio in mente Comunque molti la chiamano comunque la scultura o la statua comunque Casa dell'oggetto Eclid Questa è un'immagine dell'SCP C73 in contenimento Sapete una cosa comunque, SCP C73 è molto conosciuto come altri SCP Già in un bel po' di video scorsi ho parlato dell'SCP 096 o 093 non mi ricordo Che era quello timido Quella a differenza di questo, quello non si poteva guardare perché se no attaccava ovviamente Questo di qua invece è l'opposto nel senso che devi sempre guardarlo Ma se distogli lo sguardo lui ti attacca e ti uccide Allora, poi c'è due specie di contenimento L'elemento SCP C73 Allora scusate Poi c'è due specie di contenimento L'elemento SCP C73 deve essere contenuto in un contene perennemente chiuso Quando il personale deve entrare nel contene di SCP C73 deve farlo in numero non inferiore ai tre elementi La porta immediatamente richiusa alle loro spalle Due persone devono mantenere costantemente il contatto visivo diretto con SCP C73 Finchè tutto il personale non avrà evacuato e risigillato il container Descrizione Spostato al sito 19-1993 La sua origine è ancora sconosciuta Realizzato in calcio estruzzo e cemento armato Con un traccio di vernice spray marca Krylon SCP C73 è animato ed estremamente ostile SCP C73 non può muoversi mentre sotto contatto visivo diretto Il contatto visivo con SCP C73 non deve essere interrotto in nessun momento Alla personale selezionato è per entrare nel container e arrivare ad avvertirsi a vicenda prima di battere le palpebre E sarà rilevato che come soggetto attacchi rompendo le ossa in corrispondenza della base del cranio Del collo o tramite strangolamento In caso di attacco il personale è tenuto ad osservare le procedure di contenimento per elementi pericolosi di classe 4 Il personale riferisce di suoni simili a pedere schianti provenienti da dentro il container Quando ne nessuno è presente al suo interno Ciò è considerato normale ed eventuali cambiamenti di questo comportamento Devono essere comunicati al supervisore della vigilanza HMCL in servizio La sostanza marrone rossiccia sul pavimento è un misto di feci e sangue L'origine di tale materiale è ignota Il contatto deve essere pulito regolamente ogni due settimane Informazioni sul creatore L'immagine usata nell'articolo SCP C73 è un'opera d'arte denominata Antler 2004 Opa di Izumi Kato La foto di tale opera è stata scattata da Kaisuke Yamamoto Tutti ditti riservati dai due artisti Nota d'avvertenza SCP C73 rappresenta un uso seconda dell'immagine dell'opera d'arte Intitolata Antler 2004 Che è stata creata da Izumi Kato Il concetto dell'articolo SCP C73 Non ha alcuna relazione con il concetto originale indese nell'autore dell'opera Antler 2004 La scultura, ogni opera direttamente derivata e la fotografia in sé Non sono state rilasciate sotto licenza Creative Commons Solo il testo di questo articolo è stato rilasciato sotto licenza Creative Commons La scultura e ogni opera direttamente derivata Non può essere usato sotto nessuna circostanza per fini commerciali Il signor Izumi Kato ha gentilmente permesso l'uso delle immagini in Antler 2004 Alla SCP Foundation e la sua fanbase perfino unicamente non ha scopo di lucro Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace e di continuare a seguire la serie Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima